Musica Volata finale in vista del voto di domenica Stasera Berlusconi in campo in via Messina al fianco di Parisi e Gelmini Domani mattina Renzi con Sala al quartiere Barona Sala e Parisi continuano a punzecchiarsi Ma i toni restano morbidi, ben differenti da quelli di cinque anni fa Che abbia ragione chi dice che i due grandi rivali non sono poi così diversi? Stamane in tre ore è caduta su Milano la pioggia di un intero mese Seveso e Lambro a rischio esondazione Allagate strade e cantine In tilt la linea Lilla della metropolitana Disagio per il traffico Alberi abbattuti dalla furia di acqua e vento Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco Miglioramenti nel pomeriggio Dopo tre anni di restauri Milano ritrova il suo archivio più antico Quello della veneranda fabbrica del Duomo In cui sono conservati 500.000 documenti Sulla storia e l'identità della città Triplicata la superficie dello spazio espositivo Che ospiterà mostre ed eventi culturali Temono di perdere il posto di lavoro I 360 impiegati nelle aziende Che hanno in appalto il settore servizi di regione Lombardia Addetti alle pulizie al portierato I commessi lamentano un taglio del 50% Del monteore settimanale Rispetto a stipendi Che certo già non sono ricchi Buonasera dal TGN Buona settimana Evidentemente è la settimana che ci porta al voto Domenica prossima Milano e non solo Milano Evidentemente si vota per il nuovo sindaco La campagna elettorale dunque Entra nella fase più calda I due principali contondenti Sala e Parisi Continuano a punzecchiarsi Sono però diciamo così punture di spillo Rispetto a quello che accadde cinque anni fa Questa sera c'è in campo Berlusconi Domani a Milano arriva Renzi Andiamo a vedere il servizio di Alberto Carreras È iniziata l'ultima settimana prima del voto Siamo al rush finale Mancano sei giorni alle elezioni comunali del 5 giugno I big scendono in campo a Milano Questa sera Silvio Berlusconi Partecipa a un evento in via Messina Organizzato dalla capolista di Forza Italia Maria Stella Germini Dove sarà presente il candidato del centrodestra Stefano Parisi Sempre questa sera è previsto un confronto televisivo Presente anche il candidato dei 5 Stelle Gianluca Corrado Domani sarà la volta del premier Matteo Renzi Che sarà ospite del Barrios di Don Gino Rigoldi Insieme al candidato del centrosinistra Giuseppe Sala E al sindaco Giuliano Pisapia Il gran finale come è stato annunciato Si terrà poi venerdì 3 giugno Con manifestazione alla Darsena per il centrosinistra E nella nuova piazza Gaia Ulenti A Porta Nuova per il centrodestra Intanto Giuseppe Sala ha deciso di puntare sul welfare Partecipando a un incontro con Don Virginio Colmenia Direttore della Casa della Carità E Massimo Ferlini Vicepresidente della Compagnia delle Opere L'obiettivo è quello di dare continuità Al lavoro portato avanti Dall'attuale giunta Accoglienza e aiuto A quanti si trovano in difficoltà Sala ha detto che quando ci si candida a sindaco Bisogna essere certi Su chi siano i propri compagni di viaggio E ha lanciato una frecciata Al suo principale avversario Stefano Parisi Sento che Parisi incontra Salvini E dice che tutto va bene Traggo le mie conclusioni Significa che va bene lo stop all'immigrazione E il non prendere coscienza Della realtà odierna Intanto Parisi ha incontrato Berlusconi E l'ex ministro Maurizio Lupi Permetterà a punto alcuni temi da proporre agli elettori Le aree ferroviarie e le caserme dismesse Il post-expo Le moschee La possibile cessione di quote Delle aziende partecipate Insomma i temi non mancano Oltre un milione i milanesi Che avranno la possibilità di votare Domenica prossima Dalle 7 alle 23 Di questi 19.000 andranno alle urne Per la prima volta Nella loro vita Diciamo un po' di istruzioni per l'uso In questo servizio Di Michele Lanati Alle elezioni comunali Che si terranno domenica Dalle ore 7 alle 23 Saranno 1.2.178 I milanesi che hanno diritto al voto Dei quali 531.700 donne E 470.478 uomini Di questi Saranno 19.505 I neoelettori Dei quali 10.071 ragazzi E 9.434 ragazze Alle urne Si recheranno anche 4.328 cittadini di nazionalità europea Residenti a Milano E iscritti nell'apposita lista Di questi I più numerosi sono i romeni 1.076 Seguiti da francesi 747 Tedeschi 548 Inglesi 425 E spagnoli 419 Gli elettori avranno a disposizione 1.248 seggi Allestiti in 21 scuole A cui si aggiungono 64 seggi speciali Allestiti in strutture Come ospedali Case di riposo E di cura Oltre che per il rinnovo Del consiglio comunale Domenica si voterà anche Per l'elezione del presidente E del consiglio Dei nove municipi Presenti a Milano Ogni cittadino Per ognuna delle due schede Che riceverà Azzurra quella per l'elezione Di sindaco e consiglio comunale E verde quella per Presidente di municipio E relativo consiglio Potrà esprimere al massimo Due preferenze Rispettando L'alternanza di genere Si può quindi votare Per un uomo Ed una donna Ma non per due persone Dello stesso sesso Altrimenti La scheda è valida Ma la seconda preferenza Nulla Alle elezioni amministrative È anche ammesso Il voto disgiunto Cioè la possibilità Di optare per un candidato sindaco E di dare la preferenza Ad uno o due candidati al consiglio Appartenenti ad un'altra lista Verrà eletto sindaco Chi otterrà Oltre il 50% dei voti Ma in caso questa soglia Non venga superata I due candidati Che hanno ottenuto Il maggior numero di preferenze Si sfideranno al ballottaggio Che si terrà domenica 19 giugno Di elezioni Principalmente Ma non soltanto di quello Si parla questa sera Alle 20 e 30 Linea d'ombra Nella d'ombra C'è un padrone di casa Differente Rispetto alle abitudini Non c'è Adriana Santa Croce Questa sera Ma Jacopo Casoni Che conoscete benissimo Ebbene Dalle 20 e 30 Con Casoni Si confronteranno Mascaretti di Forza Italia Lupi di Milano Popolare Sostanzialmente di NCD Però qua si chiama Milano Popolare Perché Per l'incompatibilità Diciamo almeno con il nome Della Lega Della Lega Nord Lega Nord Che sarà rappresentata Da Bernardelli Poi ci sono Fiorenzo Galli Della lista Noi Milano Che appoggia Giuseppe Sala Bruno Ceccarelli Del Partito Democratico E Francesco Rizzati Di Milano in Comune La lista Che ha come candidato Sindaco Basilio Rizzo A linea d'ombra Si parlerà anche Di una notizia Che è arrivata Poco fa Infatti Non abbiamo fatto in tempo A inserirla Nei nostri titoli Di apertura Ma è una notizia Molto importante Perché erano sei mesi Che Milano Aspettava Il nuovo capo Della procura Dopo che era andato In pensione Edmondo Bruti Liberati Ebbene E' stato nominato Oggi dal plenum Del CSM Si chiama Si tratta di Francesco Greco Titolare in passato Di tante importantissime Inchieste Tra le quali Quelle su Montedison Enimo Parmalat E sulle scalate bancarie E' stato nominato A larghissima maggioranza E' stato Preferito lui Rispetto ad un altro Milanese Alberto Nomini Nobili Greco E' tra i massimi Esperti Nel settore Dei reati Economici Ha detto La relatrice Paola Balducci E anche per questo E' il candidato Migliore Per la guida Della procura Di Milano In un contesto In cui L'economia Connota Le attività Illecite A proposito Della maggioranza E' passata Dicevo Con 17 Si Erano sei mesi E mezzo Che mancava Un capo Al vertice Della procura Dopo che Edmondo Bruti Liberati Aveva Scelto Di andare In pensione Francesco Greco E' nato Nel 1951 A Napoli E' cresciuto A Roma Figlio di un alto Ufficiale Della Marina E' entrato In magistratura Nel 77 E' sempre Stato pubblico Ministero A Milano E nel 92 Si è occupato Faceva parte Del pool Di mani pulite E' l'unico Diciamo così Supersite Di quella squadra Di magistrati Tutti gli altri Hanno Cambiato lavoro Sono usciti Dalla magistratura Ebbene Lui è rimasto Forse anche Perché il più giovane E' rimasto ancora In carica E Dello scandalo Eni A Enel Power Passando Per i crack Parmalat Per le scalate Dei furbetti Del quartierino BNL Anton Veneta L'ultima Grande Inchiesta Sulla quale ha lavorato E' la bancarotta Del San Raffaele E della fondazione Maugeri Che vede a processo Per associazione Delinquere e corruzione L'ex presidente Lombardo L'attuale senatore NCD Roberto Formigoni Bene Passiamo adesso Al mal tempo Stamane A Milano In Lombardia Ma parliamo proprio Di Milano C'è stato un vero e proprio Nubifragio In tre ore E' scesa una quantità D'acqua Pari a quella Di un mese La città Ha subito Veramente Una scossa Dal mal tempo Traffico in tilt Metropolitana bloccata Vediamo Le cose adesso Anticipiamo Si sono rimesse A posto Nonostante nel pomeriggio Sia Sceso Un altro acquazzone Vediamo il servizio Guasti In metropolitana Strade Cantine Allagate Semafori in tilt Sono solo alcuni Dei disagi creati Dal nubifragio Che si è abbattuto Stamattina su Milano Nel giro di tre ore Sono caduti Circa 90 litri Al metro quadro Di pioggia Pari alla quantità media Che dovrebbe accumularsi Solitamente In tutto il mese Di maggio Gli esperti Spiegano che il forte Temporale E' stato favorito Dal calore Trattenuto dalla città Che è superiore A quello Delle aree circostanti Fra le numerose Situazioni critiche Che si sono registrate Si segnala L'allagamento Del parco Lambro Compresa La sede Della fondazione Exodus Di Don Antonio Mazzi A provocare gli allagamenti In molti casi A causa della forte Pressione dell'acqua E' stata l'incapacità Dei tombini Di smaltire la pioggia Facendoli saltare E costringendo Di conseguenza L'acqua Ad uscire in superficie In mattinata Sono state oltre 200 le chiamate Ai vigili del fuoco In due ore Piogge temporali Erano previsti Da giorni Ma dopo le 10 Un nubifragio Improvviso E violento Ha complicato Ed alterato il quadro Provocando Una lunga serie Di disagi Anche ai mezzi pubblici Con la linea 5 Della metropolitana Bloccata per circa Due ore Tra le fermate Di Portello E Domodossola E forti disagi Si sono registrati Anche sulla linea verde Problemi Anche per i viaggiatori Delle ferrovie nord E difficoltà Hanno registrato Anche alcuni voli Con ad esempio Un aereo proveniente Da Roma Che è stato fatto Atterrare a Malpensa Anziché a Linate E altri voli Che hanno subito ritardi Insomma Una mattinata infernale Per chi doveva viaggiare O per chi si è anche solo Semplicemente spostato In città Peraltro L'allerta meteo Prosegue Con una serie di temporali Anche di forte intensità E possibili grandinate Previsti Su Lombardia e Piemonte Nelle prossime ore Mal tempo Ha ostacolato In qualche modo Anche la protesta Di 360 lavoratori Di cooperative E imprese Che prestano La loro attività Attraverso delle cooperative Al servizio Della regione Lombardia C'è un rischio Di taglio Di posti di lavoro Il taglio Delle monteore Addirittura Fino al 50% Denunciano Al nostro microfono Che questa situazione È insostenibile Quando parliamo Di lavoratori Di servizio Intendiamo Gli addetti Alle pulizie I commessi Chi fa servizio Di portierato Vediamo il servizio Giornata di sciopero Oggi Per tutti E 360 I lavoratori Delle aziende Che hanno in appalto In tutte le sedi Della regione Lombardia Le attività Relative ai servizi Dal portierato Ai commessi Dalle pulizie All'igiene ambientale Nel mirino Stipendi sempre più bassi Peggioramento Di tutti i servizi erogati E posti di lavoro A rischio Secondo i sindacati Il taglio Del monteore Settimanale Arriva al 50% Il presidio Di protesta Si è tenuto Davanti a Palazzo Lombardia Parliamo di 360 lavoratori Distribuiti su 4 lotti Le aziende subentranti Dal primo di giugno Hanno prospettato Un taglio Fino al 50% Quindi abbiamo scelto Di fare un presidio Davanti a Regione Lombardia Che è la stazione appaltante Per capire Se possiamo avere Delle risposte L'azienda nuova Cooperativa Ha detto Fermare Tutti i genti L'orario minimo Due ore il giorno Due ore il giorno Noi non pagare anche i biglietti Noi c'è il fili C'è la casa Pagare il mutuo Pagare il gas Lo sai Tante cose noi Da pagare Il problema è quello Dello stipendio basso Lo stipendio basso Perché la maggior parte Dei lavoratori Hanno una media di ore Intorno ai 15-20 ore La settimana Un taglio delle ore Come si sta prospettando Significa scendere Al di sotto Del minimo contrattuale E anche avere stipendi Molto molto bassi Voi cosa chiedete Alla Regione Chiediamo di poter Avere la possibilità Di avere una proroga In quanto Tutta la situazione Merita più tempo Per vedere un attimo Una via d'uscita Che non può essere Chiaramente il taglio Delle ore In capo ai lavoratori Tre anni di restauro E finalmente L'archivio più grande Che c'è a Milano L'archivio di Milano O meglio L'archivio del Duomo E torna Al suo Torna Ed eventi culturali Ricordiamolo Adesso vediamo In servizio Di Anna Maria Braccini Ma ricordiamo Che all'interno Di questo Enorme Infinito Archivio Che è veramente Il Era chiusa La storia di Milano Ci sono 500.000 documenti Una storia Che non pare Nemmeno vera Lungo più di 600 anni Con mezzo milione Di documenti Che raccontano Milano Giorno per giorno Fino dalle origini Della veneranda Fabbrica del Duomo Istituita Nel 1387 E allora L'archivio appunto Della fabbrica È uno scrigno Assoluto È la storia Di uno splendore Che viene presentato Ufficialmente Con molte autorità Tra cui Il ministro per i beni E le attività culturali Franceschini Presso la sala Delle colonne Della sua volta Restaurato Grande museo Del Duomo Stiamo lavorando Perché tutto questo patrimonio Sia in qualche modo Raccordato E insieme Abbiamo aumentato Triplicato Le risorse Nel 2016 Che c'erano nel 2015 Per gli archivi di Stato E sosteniamo E valorizziamo Iniziative straordinarie Come queste Delle archivie Della fabbrica del Duomo Tra registri Che narrano Delle donazioni Anche minutissime Del popolo di Milano Fino ai documenti contabili E ai registri Relativi Alle ordinazioni capitolari L'uomo è nato E Ha continuato Anche nei momenti difficili È riuscito A essere Sempre più bello Sempre più affascinante Non solo perché C'erano i grandi benefattori Non solo perché C'era la cura La chiesa Ma perché tantissime Decine di migliaia Di persone Provinienti Da tutta Europa Hanno dato Un piccolo dono Un piccolo contributo È tutto posto in ampi luminosi spazi Triplicati nella metratura E contigui Agli uffici Della veneranda Fabbrica del Duomo Realizzati Con un investimento totale Di 1.800.000 euro E arriva anche un annuncio importante Il 3 giugno 2017 Un grande concerto alla Scala Verrà diretto da Zubin Meta Sarà con gli orchestrali Del Teatro San Carlo Per un gemellaggio Fra Milano e Napoli Guardando all'Europa Due città che io amo moltissimo Che io lavoro adesso Fra poco Lavorerò anche molto a Napoli A Milano Già da 1962 Un uomo di 43 anni Ha soffocato il figlio di 7 Prima di uccidersi Si è tolto la vita impiccandosi Lasciando un biglietto di scuse Alla consorte Che in quel momento Era fuori casa È accaduto a Tovo Sant'Agata Nei pressi di Sondrio Ieri pomeriggio E secondo i carabinieri Di Tirano Che conducono le indagini Non ci sarebbero dubbi Sull'omicidio suicidio Secondo indiscrezioni La coppia Stava per separarsi A dare l'allarme Sono stati vicini di casa La moglie dell'uomo Lavora in ospedale Come infermiera Ancora cronaca 43 kg di stupefacenti Sequestrati unitamente A 109.000 euro in contanti 6 persone arrestate Per spaccio di droga In Brianza Soprattutto davanti alle scuole Vediamo il servizio di Carreras Un'operazione antidroga Iniziata due anni e mezzo fa Dagli agenti del commissariato Di Sesto San Giovanni Con l'arresto di 13 persone E proseguita sino ad oggi Con altre 6 ordinanze Di custodia cautelare Una banda che spacciava stupefacenti Ashish, marijuana e cocaina Nel territorio Brianzolo E molto spesso davanti Agli istituti scolastici I poliziotti hanno sequestrato 43 kg di droga E 109.000 euro in contanti Lo stupefacente veniva nascosto In Boxa, Trezzano Rosa E Cologno Monzese L'organizzazione, secondo gli investigatori Faceva capo ai fratelli Giuseppe e Moreno Calò Rispettivamente di 45-34 anni Rinvenuti 52 telefoni cellulari Correlative SIM Intestate a nomi sconosciuti Che venivano assegnati Sia agli spacciatori Che ai clienti La banda aveva in dotazione Anche sistemi tecnologici Per inibire l'uso dei cellulari In alcune zone E altre apparecchiature Idonee al rilevamento di cimici Quali microfoni O telecamere nascosti Tutti gli arrestati Avevano precedenti Per analoghi reati La nostra convinzione È che non tanto i fornitori Quanto gli acquirenti Che abbiamo preso in flagranza Avessero destinato la droga Anche davanti agli istituti scolastici Dell'Abbrianza Era un'organizzazione Che funzionava in modo egregio Come può vedere Abbiamo trovato Nell'atto di esecuzione Di uno dei sei decreti Circa 50 telefonini In carico ai due pregiudicati Che coordinavano Tutto il sistema criminoso Di cui abbiamo parlato E questi cellulari Come vedete 50 come ho detto Servivano appunto per Rifornire Ogni tre mesi Sia i corrieri Che gli acquirenti Di una nuova sim Di un nuovo apparecchio Un altro importante colpo Al traffico di droga È stato invece inferto Dalla guardia di finanza Di Orio Alserio Infatti Sono stati arrestati Cinque corrieri Intercettati tra l'aeroporto E Ventimiglia Si trattava di un traffico Gestito da senegalesi In grado di reperire Grossi quantitativi Di stupefacente In particolare cocaina Grazie a una fitta rete Di connazionali in Spagna Ebbene Dopo queste Che sono state fermate Queste cinque persone Una di queste Peraltro Era evaso Appena evaso Dagli arresti Domiciliari Il totale Sono state sequestrati Cinque chilogrammi Di cocaina purissima Che avrebbero fruttato Sul mercato Un milione di euro Oltre a Settemila euro in contanti E un'autovettura Di grossa cilindrata Che era utilizzata Dalla banda Chiudiamo con Quest'ultima notizia Di cronaca Un uomo di 31 anni È stato ferito Questa notte Da un Con il coccio Di una bottiglia Da due rapinatori All'uscita Della discoteca Hollywood In Corso Como L'uomo Un cittadino brasiliano Che in questi giorni Si trovava in vacanza Si trova in vacanza A Milano È stato ricoverato In gravi condizioni All'ospedale Alla clinica San Giuseppe Non è in pericolo Non è in pericolo di vita Ma dovrà subire Un delicato Intervento chirurgico Al braccio E alla mano Agli agenti Di polizia Ha raccontato Di essere stato Verso le 5 Di stamane Di essere stato Avvicinato Da due nordafricani Che prima Gli hanno chiesto Una sigaretta Poi lo hanno Aggredito Per rubargli Portafoglio E cellulare Lui ha reagito E per tutta risposta È stato ferito Con questa bottigliata Era davvero L'ultima notizia Per questa sera Chiudiamo qui Ci rivediamo domani Col TGN alle 19.15 Adesso Dopo il meteo Arrivano Marchetti e Gambaro Per lo sport Dalle 20.30 L'appuntamento Con Linea d'Ombra Gli ospiti di Casoni Ve l'ho già detto Tutti i primi Buona serata Grazie a tutti